...euroscettici o addirittura anti-euro. E la lezione sembra in parte capita, ma con una gaf che ci permettiamo di definire tale, di questo signore che stiamo per vedere, Herman Farron, poi belga, che dal primo dicembre del 2009, quindi da praticamente cinque anni, è alla guida e presidente del Consiglio europeo, la più prominente figura quindi dell'Unione europea. Che cosa ha detto Van Rompuy, ricevendo oggi il premio Carlo Magno, il più grande premio europeo? Che l'Italia deve, che l'Europa deve cambiare rotta subito. È urgente, è essenziale che sia anche protettiva non solo degli affaristi, ma anche degli impiegati, dei lavoratori, non solo quelli con i diplomi e che sanno le lingue, ma di tutti i cittadini. Bellissime parole. Ma perché questi cinque anni in cui è stata la guida dell'Unione, Van Rompuy, invece l'Europa ha fatto solo l'interesse degli affaristi, dei diplomati, di quelli che avevano la possibilità di parlare molte lingue e non anche di tutti i lavoratori e dei cittadini. E questa è l'Europa di cui mostrate il dépliant per i cinque anni passati, nel momento in cui il caro presidente Van Rompuy riceve la più alta onorificenza europea. Forse quando ci si chiede perché tanti voti sono andati a movimenti euroscettici, no euro o di protesta pura e semplice, la risposta sta proprio nelle dichiarazioni ufficiali, dei massimi esponenti dell'Unione europea stessa. Parliamo di economia.